Barbara Poli, Chief Digital Officer di Rina per Affari Italiani, siamo al Forum dell'Economia Digitale qui è stato anche all'evento del convegno dei giovani imprenditori di Rapallo, ricorda i vostri droni. Voi siete molto attivi in campo digitale in diversi ambiti. In diversi ambiti, perché siamo partiti da un'idea che i bisogni non cambiano, ma cambiano gli strumenti. Se pensiamo alla pittura che poi si è evoluta, fatemelo dire, in fotografia, il bisogno è sempre lo stesso, immortalare un'emozione, immortalare un momento e fondamentalmente anche nel mondo industriale, che è il mondo in cui opera Rina, i bisogni trasversali non cambiano. Tutte le aziende stanno cercando maggiore sicurezza, stanno cercando maggiore produttività, maggiore efficienza. E qua sta, diciamo, un po' la nostra offerta digitale, quindi creare una piattaforma trasversale ai vari settori di business, ma poi con specificità che vengono in qualche modo indirizzate dai nostri esperti. Noi abbiamo circa 3.700 ingegneri che conoscono in maniera approfondita processi, asset e operatività dei clienti e aiutano a trasformare i dati in informazione. Grazie.